La nuova BMW R18 strizza l'occhio alla tradizione BMW Motorrad unendola con la tecnologia più avanzata dell'era moderna. Prende spunto da uno dei primi modelli prodotti da BMW nel 1936, stiamo parlando della R5 che potete vedere. Ha preso dalla R5 tutta la parte che riguarda le cromature. Oltre a questo invece un particolare che viene sempre ripreso dalla R5 è la marmitta fishtail. Questa tipologia di marmitta possiamo trovarla su diversi modelli sempre storici di BMW Motorrad, quindi dall'R5 intorno.